Quanto ti somiglia Contessina? Quanto è similar a Contessina? Cosa hai in comune? Sicuramente non ho la patente, direi che sono una persona molto impasciente. Sicuramente ho la passione, mi piace una buona lontana. Penso che sono una persona molto loyale, molto emozionale e aperta, magari troppo aperta. Non ho certo la sua pazienza, sono una persona molto più impaziente di lei, sicuramente è un comune lo spirito combattivo, un bello scontro ogni tanto, non mi dispiace affatto. Sicuramente ho in comune con lei la passione, sono anch'io una persona molto fedele e devo dire che ci ho messo molto di me stessa in questo personaggio nella Contessina, anche se probabilmente è un comune con lei la passione, e il marito io l'avrei lasciato dopo forse neanche un anno. E dopo la giuria? Dopo questo impegno come giurata della Roma Fiction Fest dove ti vedremo? Cinema, televisione? Cinema TV. Ho appena finito le riprese di una fiction che si chiama Britannia per Amazon Sky e mi vedrete, penso, la prossima estate, un ruolo completamente diverso che forse non vi piacerà poi così tanto, però devo dire che mi sono molto divertita a farlo. Buongiorno! Meglio il cinema o la televisione? Perché ultimamente le cose si mescolano abbastanza, no? Cinema o la televisione, perché recentemente i due sono stati sbagliati e intercambiati. Qual è meglio? La televisione è migliore del cinema. Non so come sarà in futuro, ma per il momento è così. In televisione si vedono dei lavori veramente ben fatti, eleganti. Che giudice sarà? Che tipo di membro del giurio saranno? Ehm... I'll be very picky. Sarò molto selettivo, molto preciso. Sono delle serie preferite, delle serie televisive preferite che lei vede? That's easy for you to say. What? This is... Do you have favorite TV dramas that you prefer to watch? Game of Thrones. Il Trono di Spade. Game of Thrones is... I love it. Lorenzo, in giuria, Roma Fiction Fest, che cosa ti aspetti? Che cosa vuoi? Che giudice sarai? Mi aspetto un sacco di donne! Cosa voglio? Un sacco di soldi! Cosa vi darò? Tutto me stesso! Così ci metti paura? Eh? Così? Le risposte politiche, no? No, un po' eccessivo. No, sono molto contento. È la mia prima giuria. Quindi sono contento di poter scoprire questo ruolo che non ho mai avuto. Quindi il mio contributo sarà innanzitutto da spettatore medio. E cercherò di capire le cose che piacciono a me e di dirle. E poi molto fortunato di avere in giuria dei colleghi illustri, come appunto Dreyfus Contarello. E quindi mi appoggerò anche a loro per capire i metodi di giudizio veri, reali, di un giurato come si comanda. Insomma, io sono molto contento. E c'è un palinsesto pazzesco. Cioè, mi penso, abbiamo una serie di prodotti innovativi che vengono da tutte le parti del mondo. Quindi sono molto curioso. Ecco, e a parte Marco Polo per ovvi motivi, che cos'è che ti piace a te in una serie? Che serie ti piace? Guarda, io sono partito... Il mio amore per le serie è nato con Scrubs. Quindi la commedia americana quella brillante, eccetera. Dopodiché mi sono fatto tutto il processo della Golden Age, no? Delle serie televisive. Le ultime in cui mi sono molto affezionato... Vabbè, Breaking Bad, ovviamente. C'è poco da dire. E... Una che ultimamente... Per me la serie, per quanto è anche lì, è un po' controverso perché la prima... Eh? True Detective. True Detective, ecco, per me è il top che hanno fatto. La prima stagione, esatto. La seconda non l'ho vista. E stavo per dire che le ultime due cose... Le ultime due cose che ho visto, che mi hanno veramente... Insomma... Ha fatto rimanere a bocca aperta per tutto il tempo. Sono stati Stranger Things e The Get Down, che è quella di Buzz Lurman, sulla nascita dell'hip hop. Che io adoro anche lì, quindi mi sono divertito un sacco. A Netflix si sta bene. A Netflix si sta molto bene. Grazie.